Rosalinda, Cannavo e Andrea Zenga sono recentemente tornati a Milano dopo aver trascorso una vacanza in famiglia d'Osimo, città natale di Andrea. La coppia, che ha documentato con affetto e spontaneità i momenti di relax e intimità vissuti durante il soggiorno, si prepara ora ad affrontare uno dei momenti più emozionanti della loro vita, la nascita del loro primo figlio. Rosalinda, ormai agli sgoccioli della gravidanza, potrebbe partorire in qualsiasi momento. In attesa di questo importante evento, la vediamo rilassata sul divano di casa, accanto a loro fedele cane. Questa immagine di serenità familiare, condivisa sui social, riflette l'attesa trepidante e al contempo serena dei futuri genitori. Gli ultimi giorni di gravidanza sono carichi di emozioni e aspettative, e Rosalinda e Andrea sembrano viverli con una calma che solo l'amore e la complicità possono offrire. Ora non resta che aspettare la potrebbe nascere da un momento all'altro, coronando così la loro felicità con l'inizio di una nuova avventura di vita insieme. Grazie a tutti.